Come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport e noi siamo qui pronti a raccontarvi nuovi sport, nuove associazioni sportive ma questa sera è la volta di tre grandi atleti ma soprattutto tre atleti giovanissimi mi sento già vecchia in questa puntata Cominciamo da lei, lei che è la regina del tiro a volo lei arriva da Costa Volpino, ha il piacere di ritrovare qui nei nostri studio Leccele Amighetti, buonasera Rachele Buonasera a te, grazie mille di avermi invitato No, grazie a te perché ogni anno tu ordini a noi, ci aggiorni su quelli che sono i tuoi risultati le tue vittorie e anche quest'anno il tuo palmaresse si riempie di un importante trofeo quello della Coppa Europa, inizierei da qui Assolutamente, è stato uno dei risultati più importanti della mia carriera fino ad ora e sono riuscita a ottenere questo risultato in Francia durante il campionato europeo di Fossa Universale che si è svolto vicino a Bordeaux in pratica è la somma dei risultati di un gran premio internazionale che abbiamo svolto in Umbria e che io sono riuscita a vincere con un ottimo punteggio e del risultato dell'europeo insieme queste due gare hanno permesso di stilare questa classifica e mi sono aggiudicata il primo scalino del podio Beh, insomma, complimenti Rachele perché noi ti abbiamo visto e ti abbiamo conosciuto con questa freddezza, questa lucidità nel colpire quelli che sono questi piattelli tu sei specializzata nella Fossa Universale ma chiaramente poi ci sono questi due tipi di discipline Fossa Olimpica e Fossa Universale Ricordiamo ai nostri telespettatori qual è la differenza? La differenza principale è la grammatura delle munizioni c'è più piombo nelle cartucce per la Fossa Universale ce n'è un pochino di meno in quelle per la Fossa Olimpica e ulteriore differenza è il punto di uscita dai piattelli perché nella Fossa Universale escono tutti dalla postazione centrale mentre durante le gare di Fossa Olimpica i bersagli escono da ciascuna postazione di fronte ai tiratori le principali differenze sono queste Ci vuoi commentare queste immagini che ha proposto il nostro Felix che ci hai fornito proprio quest'oggi? Queste sono immagini che io ho registrato anche per la discussione di tesi prossima all'inizio di marzo che verterà sulla relazione tra l'ormone dello stress e i punteggi nel tiro al piattello queste immagini mostrano un allenamento svolto nel campo dove io sono tesserata, il trap con caverde di Lonato e è visibile la rottura del piattello grazie a una piccola nuvoletta rosa che è visibile quando si esplode il colpo e il bersaglio viene colpito quindi questo è il campo principalmente dove mi alleno Fantastico, ogni volta che mi racconti e mi fai vedere queste immagini sono sempre più estrefatta da quella che è anche la freddezza senza usare troppe parole perché credo che sia uno sport di concentrazione molto molto difficile che riesci a conciliare con il lavoro sei una fresca insegnante da settembre con gli allenamenti e chiaramente con lo studio perché come ci hai anticipato insomma sei prossima all'ennesima tesi di laurea Sì, per fortuna siamo al termine di questo percorso triennale, più magistrale questo invece che viene mostrato in questo momento è l'attestato che ha mandato la federazione internazionale che ha classificato in base alle classifiche mondiali e io sono arrivata a seconda delle donne che hanno partecipato quest'anno a competizioni internazionali quindi è stato assolutamente un risultato eccezionale soprattutto conscia di chi è la prima è un'atleta italiana che gareggia a livello altissimo da diversi anni quindi sapendo chi è la capolista è assolutamente un ottimo risultato il secondo posto Beh insomma due donne italiane in cima al mondo Assolutamente Insomma un grande motivo d'orgoglio Assolutamente un motivo d'orgoglio anche perché è una bellissima persona è capace, è intelligente e comincia a trasmettere quelle che sono le sue capacità alle nuove leve quindi sono tantissime le cose da imparare quando si è in competizione con questa persona Quanti anni ha? Qualcuno più di me non si dice Non si dice però insomma tu sei una 25enne e c'è ancora tanto margine perché questo è uno sport che davvero si può protrarne nel tempo Ci sono diversi atleti che partecipano nella categoria over 73 anni quindi è assolutamente uno sport longevo e che se il fisico lo permette può essere protratto per tantissimo tempo Prima ti ho affermato sul discorso studi abbiamo detto che sei prossima alla laurea l'ennesimo traguardio di un percorso di studi molto importante Assolutamente importante, soddisfacente che mi ha dato gli strumenti anche per essere preparata per quello che è il lavoro che sto svolgendo adesso Sono da settembre insegnante di educazione fisica presso una scuola elementare a Lovere la Capitanio e sono assolutamente contenta dell'ambiente che ho trovato e anche dell'attenzione che è posta all'aspetto motorio all'attenzione sulla crescita motoria anche dei bambini È ancora un po' presto per insegnare il tiro a lavoro ma cominciamo dalle basi Sì, sì, sì tutto quello che è la crescita, l'armonia motoria è importante che venga appreso che diventi un elemento di attenzione da parte delle famiglie, da parte della scuola Io non so dove trovi il tempo però c'è e sei anche consigliere comunale proprio del tuo comune quello di Costa Volpino A seguito delle elezioni di inizio ottobre dell'anno appena passato sono state inserite nel consiglio comunale con la deliga alle politiche giovanili quindi tutto quello che è anche legato all'istruzione all'inclusione che va sempre diventa sempre un argomento più importante legato anche alle disabilità alle difficoltà quindi mi trovo proprio in un ambiente a me congeniale direi Me lo consenti? Me la consenti la battuta? Non ti hanno ancora fatto arrabbiare? Non hai preso in mano il fucile? Assolutamente no Si va sempre disarmati tranne che sul campo da tiro Chiaramente Quanti allenamenti devi fare a settimana per raggiungere un livello di attenzione e di preparazione come quelli che abbiamo visto? So che la stagione agonistica è appena iniziata a gennaio è ricominciata la nuova stagione tu sei già pronta al via A livello ottimale sarebbero due o tre allenamenti tecnici sul campo da tiro più un paio di allenamenti di preparazione fisica purtroppo dovendo incastrare lavoro, consiglio comunale e tutti quelli che sono gli impegni durante la settimana si sono ridotti a due allenamenti di tiro più uno di preparazione fisica sarà più lungo il percorso di preparazione ma sono sicura che arriveremo a un discreto livello di forma Il fucile che utilizzi per sparare ha bisogno di cambi particolari? C'è un cambio di categorie, di potenze particolari? Il cambio dell'attrezzo sportivo che noi utilizziamo è legato alle variazioni delle caratteristiche fisiche del tiratore un aumento di peso, una diminuzione di peso una crescita in altezza portano a fare delle modifiche a quella che è la parte di legno che appoggia alla faccia, al viso e alla spalla che si chiama calcio quindi principalmente sono quelle le modifiche se un tiratore resta costante nella sua forma fisica negli anni potrebbe non aver bisogno di fare modifiche all'attrezzo sportivo anche perché comunque in Italia abbiamo una tradizione una qualità eccezionale Quindi i fucili sono italiani? Sì, principalmente nell'ambito del tiro c'è Beretta e Perazzi principali leader nell'ambito del tiro a volo poi qualche, chiamiamolo tiratore franco utilizza altri marchi ma sono limitati come numero rispetto a chi spara con Beretta e Perazzi Quindi al vertice della classifica mondiale ci sono due italiani i fucili sono italiani insomma l'Italia è capolista nel mondo insomma per quello che riguarda questo sport Primeggio assolutamente Un'altra curiosità so che te l'ho chiesto più volte qui nella nostra trasmissione ma tutte le volte mi incuriosisce e mi piacerebbe davvero ricordarlo anche ai nostri telespettatori Quando hai iniziato a tirare? Come è iniziata la passione per questo sport? Che poi insomma è diventata davvero una carriera ricca di soddisfazioni Io ho provato la prima volta a 11 anni c'è un piccolo campo a Montecampione dove ha sede il Tavlovere che ha organizzato una giornata promozionale per avvicinare neofiti al settore del tiro al volo La prima volta ho preso una botta che io ho detto che non avrei più 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 assolutamente sparato L'anno dopo probabilmente diversa io fisicamente diversa come approccio ho riprovato, ho preso un piattello e lì è cominciato questo affetto, questo amore, questa passione che ormai da 14 anni mi accompagna perché avevo 12 anni nel periodo quindi sono 14 anni che sto gareggiando nel tiro a volo anche a livello nazionale Da lì la prima squadra, da lì le prime competizioni come sono andate le prime volte? Un'oscenità perché mi trovavo a competere con delle ragazze della mia età che magari avevano il campo da tiro vicino a casa avevano il padre che era un allenatore quindi io mi trovavo a fare dei punteggi ridicoli come 13 su 50 e competere contro gente che si lamentava di aver fatto 48 su 50 è successo ancora che questa persona io l'abbia superata in classifica quindi non importa tanto le risorse che uno ha a disposizione quanto l'impegno che ci mette la costanza, la fiducia anche nelle proprie capacità sono cose fondamentali Questo 2022 cosa vede? Questo 2022 vede l'impegno nel conciliare il lavoro, il comune e l'allenamento del tiro al piattello prevede alcune competizioni internazionali che fortunatamente si svolgeranno in Italia quindi sicuramente ho l'obiettivo di partecipare e di prepararmi in maniera adeguata a queste gare spero che possano dare il risultato positivo perché determineranno anche la convocazione per gli europei e i mondiali L'anno scorso purtroppo i mondiali sono saltati proprio per il discorso pandemia un'occasione persa purtroppo però ci sono ancora tanti anni Purtroppo sì perché erano ospitati in una struttura eccezionale in Spagna e sarebbe stata un'occasione importante anche di oltre a partecipare effettivamente alla competizione a ritrovare degli atleti delle altre nazionali con cui si è creato un rapporto di amicizia, di fiducia, di stima reciproca che grazie anche a, chiamiamole, le lavate di testa degli insegnanti delle medie e delle superiori che ci hanno insegnato almeno a me l'inglese e lo spagnolo ci ha dato la possibilità di entrare in contatto e di creare dei bellissimi rapporti e ritrovarsi dopo una pandemia a tutti vuol dire che si sta tutti bene ed è la cosa più importante Assolutamente, assolutamente Veniamo invece ai tuoi obiettivi io so che fai la Fossa Universale ma non ti è mai capitato o non hai mai pensato di spostarsi su quella che è la Fossa Olimpica per poter poi magari partecipare a quelle che sono la competizione per eccellenza di Olimpiadi Io principalmente pratico la Fossa Universale ma anche quelle che sono le competizioni di Fossa Olimpica anche perché la possibilità a livello regionale di trovare campi impostati per la Fossa Universale è un po' complicato Ho partecipato anche a gare di Fossa Olimpica e sono state anche soddisfacenti Purtroppo il discorso Olimpiadi risulta complicato perché non c'è l'appoggio da parte di un corpo dello Stato che permetterebbe di svolgere quello come lavoro e quindi prepararsi adeguatamente alle competizioni e alle selezioni Ci si pensa Non si chiude le porte alla provvidenza Alla provvidenza assolutamente mai chiudere le porte alla provvidenza Però insomma un piccolo lumicino di speranza c'è ancora Sarebbe bellissimo La speranza è l'ultima a morire sempre e comunque Non ci sono delle selezioni particolari per entrare nei corpi militari per quanto riguarda il tuo sport? Purtroppo no Tante volte sono atleti già tesserati per i gruppi sportivi a cui viene proposto il concorso quindi magari con i numeri ci si può arrivare lo stesso quindi l'impegno è far crescere i numeri dimostrare di essere capace e sperare in una chiamata dall'alto perché funziona spesso e volentieri così Assolutamente Invece la prossima gara quale sarà? La prossima gara anzi saranno due prossimo fine settimana fine settimana entrante prova del campionato regionale sia di Fosso Universale che svolgeremo a Castel Goffredo che è nel Mantovano e prova regionale di Fosso Olimpica che sarà allo Nato Di fronte alla seconda classificata a livello mondiale sono due gare che ti vedranno sicuramente in testa Spero di sì anche perché lei è tesserata in un'altra regione quindi davanti non può arrivare Davanti non può arrivare almeno per queste gare Io ti ringrazio Rachele grazie per essere venuta qui ad Antena 2 Sport ad aggiornarci anche su quelle che sono le tue gare quelle che sono le tue competizioni e soprattutto in bocca al lupo per tutte quelle che sono le tue attività e soprattutto la tesi imminente in bocca al lupo davvero noi siamo con te e anzi aspettiamo anche una chiamata olimpica Grazie mille Voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità è il momento di andare di corsa incontriamo un altro giovane un giovane corridore Seconda parte di Antena 2 Sport e passiamo da Costa Volpino qui a Clusone sul nostro altopiano perché come ve l'ho detto questa sera è una puntata dedicata ai giovani siamo passati dai 25 anni di Rachele Mighetti ai 17 di Stefano Benzoni Buonasera Stefano Buonasera a tutti Lui è un atleta dell'Atletica Valle Brembana chiaramente corre e in questo 2022 è un po' il re dell'Atletica Bergamasca soprattutto per quanto riguarda la tua categoria Raccontaci un po' Stefano come è andato questo gennaio davvero spumeggiante Allora dal primo gennaio sono passato di categoria dalla categoria under 18 degli allievi a quella dell'under 20 degli juniors inoltre ho cambiato società quindi ora sono passato nella Atletica Valle Brembana per come dire essendo che c'è un gruppo un po' più come dire più grande ecco quindi anche nei trasferti anche negli allenamenti in un futuro penso che possano darmi tanto ecco e quindi appunto ho accettato la proposta del presidente della Valle Brembana che ringrazio tuttora che è Roberto Ferrari ma ringrazio anche lo stesso pool che da qua ho iniziato a correre mi ha mi ha sempre comunque accolto mi ha sempre dato come dire la disponibilità per allenarmi ecco e quindi ecco ora sono passato di categoria e dal passaggio di categoria fino ad ora sono riuscito sempre a vincere e quindi insomma davvero è stato un inizio un mese di gennaio davvero pieno di successi l'ultimo in ordine cronologico è proprio la gara dei 5 mulini ma non è solo quello sì esatto la prima gara è stata il cross del Campaccio il 6 gennaio dopo due settimane e dieci giorni circa il 16 gennaio appunto il cross di Cellatica che era la prima prova regionale di società e appunto l'ultima questa domenica scorsa che è stata la 5 mulini e il Campaccio l'avevo già vinto l'anno scorso e ci tenevo a rifare bene anche quest'anno e appunto anche nelle altre due sono riuscito a riconfermarmi bene e speriamo ecco domenica questa domenica sarò in gara per la seconda prova regionale di società dove tenterò diciamo così un altro successo ecco comunque sarà un penso l'ultimo penultimo test prima dei campionati italiani che si svolgeranno il 10 di marzo a Trieste e lì appunto sull'onda di questi risultati proveremo a a fare il me a fare di me a fare il nostro meglio ecco ormai sei uno specialista all'ecross te lo aspettavi? tendenzialmente allora l'anno scorso è andato molto bene c'è stato un po' di rammarico visto che gli italiani diciamo avevo accusato un po' un problema sull'ultimo giro e non ero riuscito proprio a esprimermi come avrei voluto la settimana dopo però avendo vinto il cappaccio mi sono avendo battuto il campionato italiano mi sono accorto che forse avrei potuto davvero in condizioni migliori fare meglio e a novembre nelle prove di selezione per i campionati europei dove purtroppo non sono stato selezionato l'aver vinto nella mia categoria in entrambe le gare che ho fatto l'essere arrivato vicino alla convocazione con atleti più grandi mi ha fatto capire che nell'anno che arrivava potevo avere buoni propositi beh assolutamente insomma è passata questa selezione ma ce ne saranno sicuramente altre la stagione del cross finisce con l'inizio della primavera dico bene? sì sì con gli italiani a marzo penso sia l'ultima l'ultima gara anche perché io avendo iniziato a novembre con le prove di selezione è ormai diciamo abbiamo iniziato un po' prima di tanti altri a rigareggiare ecco quindi da novembre ho fatto due cross gennaio altri tre sono già cinque se tra febbraio e marzo ne faccio altri due o tre direi che otto cross possono bastare per quattro mesi infatti dopo gli italiani penso che farò una o due settimane dove mi concederò un po' di relax un po' di corsette tranquille un po' di scarico esatto e dopo appunto a riprendere in pieno regime per la pista ecco la stagione in pista penso prima di abbandonare il cross di solito abbiamo visto che il campaccio sono circa sette chilometri la tua distanza media qual è quella che ti rende di più? allora diciamo un po' più se è lunga la gara più riesco come dire a prevalere sui avversari nel senso che fortunatamente io sono abbastanza uno che è abbastanza molto costante non soffre tanti chilometri e infatti avendo vinto gli italiani solo a dieci chilometri a ottobre a Forlì mi ha fatto capire che la distanza ecco è quella può essere intorno ai dieci chilometri sì diciamo dai cinque in più dai cinque in su infatti anche in pista quest'anno l'obiettivo saranno i cinquemila metri visto che l'anno scorso essendo a lievo la distanza massima che potevo fare in pista erano i tremila quest'anno passando junior posso anche gareggiare su cinquemila e di conseguenza vedendo come sono andando nei coros e come sono andato sulla dieci chilometri penso sia la mia distanza ideale ecco in un futuro ovviamente non escludo sicuramente diecimila e mezze perché no vabbè allora invece veniamo alla stagione primavera e estate quello che sarà poi il tuo futuro il tuo futuro imminente dove ti troveremo a gareggiare soprattutto più o meno le distanze le abbiamo scoperte ci sono degli obiettivi particolari ci sono delle competizioni che aspetti più di altre allora quest'anno sicuramente diciamo da una parte sfortunatamente da una parte diciamo così mi può mi può giovare questa cosa il fatto che quest'anno non ci sono competizioni internazionali per la categoria junior o meglio ci sono ma solo i mondiali che i minimi di partecipazione sono non dico impossibili ma davvero molto difficili e fortunatamente l'anno prossimo ci saranno gli europei nel 2023 ed essendo più grande con un anno in più di esperienza potrebbe essere diciamo così fattibile quest'anno diciamo la gara clou sarà i 5000 metri gli italiani che si svolgeranno a metà di luglio a Rieti e lì proveremo sicuramente una medaglia può essere la più importante sarebbe quella sarebbe gradita ecco però ecco tutto vedremo un po' come andrà sicuramente devo lavorare tanto sul correre in pista sulle distanze più più corte ecco perché sono ancora un po' un po' carente ma come allenatore penso che potremo fare un buon lavoro ecco beh insomma le idee sono chiare gli obiettivi sono ben prefissati veniamo un po' invece a quelli che sono gli allenamenti perché ne abbiamo parlato tanto immagino che per arrivare a questi risultati in queste competizioni l'allenamento sia quotidiano e soprattutto molto intenso come riesci a conciliare scuola allenamenti e soprattutto come fai ad organizzarsi anche con la trasferta magari per arrivare chiaramente in Valbrembana con i tuoi compagni di squadra allora io per adesso in periodo scolastico diciamo mi allendo poco con loro nel senso che tanti di qualcuno di loro fa la teta professionista quindi si allena spesso la mattina la mattina appunto sono a scuola quindi mi allendo sempre la sera tra le sei le sette e mezza una cosa del genere da una parte è un po' diciamo così allenarsi quasi sempre da soli col buio diciamo non è facile tutti i giorni uscire col freddo però dopo un po' ci si fa l'abitudine e poi se i risultati sono questi ti viene voglia comunque di migliorare di uscire chiaramente a volte sono un po' rammaricato sul come dire non riuscire a svolgere appieno l'allenamento dovuto a vari impegni a studio così però questo vale anche per i miei avversari penso chiaramente quindi diciamo nelle vacanze di Natale sono riuscito a allenarmi bene e infatti con la prima gara al campaccio i risultati poi si sono visti esatto e quindi magari quando cambierà l'ora ecco che ci sarà sicuramente più luce magari si potrà allenarsi in qualche modo anche magari la mattina proveremo a vedere ecco poi chiaramente sono a casa il sabato da scuola quindi il weekend riesco a gestirmi bene anche con le assenze stanno a casa il sabato è difficile saltare ecco a meno che parta il venerdì se no diciamo fortunatamente salto pochi giorni sì 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 quello sicuramente gli allenamenti come sono strutturati è una tabella da parte dei tuoi allenatori allora mi alleno più o meno quasi tutti i giorni magari la settimana che non c'è la gara che c'è la gara mi alleno faccio un giorno di riposo quindi comunque sono 6-7 allenamenti a settimana e volgo uno o due allenamenti in questo periodo in pista ma solitamente solo uno in periodo invernale preferisco fare un po' più di chilometri in giro ecco magari qualche salita qualche esercizio un po' più di palestra ecco e invece in estate appunto gli allenamenti primavera ecco svolgo anche due allenamenti in pista dove ti alleni? utilizzi le nostre piste ciclabili? sì sì mi alleno molto ora come ora mi sto allenando molto a Rovetta dove ci sono le piscine di Rovetta per intenderci perché c'è un diciamo così c'è un bel tratto sterrato che è ideale non solo per per le corse campestri ma anche per come dire per evitare sempre anche di correre sull'asfalto e quindi i miei piedi i miei tendini ringraziano molto ecco e quindi è comodo e anche il mio nato ha trovato questo come dire un bel giro un bel tragitto in questa zona e essendo anche al sole diciamo non riusciamo a diciamo anche allenarci anche magari in pantaloncini ecco quindi chiaramente è comodo sotto tutti i punti di vista e questo allenamento lo svolgiamo il sabato e la domenica ecco quando c'è più tempo se non c'è la gara questo sicuro noi siamo un po' curiosi quando hai iniziato a praticare atletica quando hai scoperto che insomma l'atletica era il tuo sport ha iniziato due o tre anni fa un po' casualmente giocavo a calcio in oratorio poi per una serie di motivi qualcuno ha cambiato scuola qualcuno aveva cambiato squadra eccetera qua Clus non si era più creata una squadra e quindi le scelte erano andare o a Rovetta o appunto c'era la squadra a Vertova però a Vertova mi era un po' scomodo per la scuola ecco fare avanti e indietro un po' ovviamente erano le 4 e mezza 5 quindi mi occupavano tutto il pomeriggio e dopo di che in estate avevo fatto le nostre corrine ai borghi ecco ovviamente le non competitive e insieme ai miei amici che fanno usci di fondo ecco mi divertivo molto e sono stato spronato anche da un mio un mio compagno di squadra che è Pietro Cambianica che ha due anni in più di me anche lui come me ha iniziato a correre dopo aver giocato a calcio anche lui prima nel pool ora la valta di cavallo Brembana sono allenati dallo stesso allenatore quindi ci alleniamo spesso insieme ecco mi ha spronato molto mi ha invitato a andare a correre un po' con lui e alla fine è un po' spronato un po' a volte dai genitori un po' dall'amico un po' di qua alla fine vedendo che ero quello nei borghi riuscivo a arrivare davanti ai miei amici fondisti che comunque si allenavano sempre così ho detto vabbè tentare proviamo proviamo e le prime gare ho visto che andavo già bene poi ho visto che lo sport individuale mi ha sempre attratto e ho visto che mi rende ecco come dire più e mi trovo molto più a mio agio ecco esatto e sono molto un po' testardo ecco quindi preferisco a volte anche stare da solo e quindi hai trovato insomma la mia strada la strada giusta un po' così ecco nel fine 2019 ecco ho trovato probabilmente la pandemia mi ha un po' quindi è bloccato avevo appena iniziato quindi anche tapirulano l'avevo eccetera quindi allenarsi è stato ecco un po' difficile in quel momento dopo piano piano ho ripreso con calma e pian piano sono stati fuori una serie di risultati ecco progressivamente ed eccoti qua già subito nei primi posti e a livello italiano chiaramente per quanto riguarda la tua categoria te lo immaginavi te lo aspettavi perché insomma è capitato tutto tutto insieme ma allora i risultati del 2022 nel senso sì perché nel 2021 non ero stato proprio appieno soddisfatto ecco al 100% diciamo che ho avuto una grandissima stagione ma diciamo negli appuntamenti importanti importanti su 4-5 un paio l'avevo sbagliati ecco questa come dire non dico questa sconfitta perché almeno è stata una sconfitta però ecco questa sono stati dei piccoli insegnamenti esatto sì sì chiaramente mi hanno aiutato molto davvero però esatto e quindi mi hanno aiutato anche a capire cosa magari in cosa potevo migliorare a vedere anche un po' gli avversari le loro come dire i loro punti di debolezza chiaramente e ho lavorato molto anche sui miei punti carenti chiaramente pian piano e ecco sicuramente lo sport a lungo termine ti premia se con continuità costanza e con passione anche riesci a tutti i giorni ad allenarti chiaramente ecco sei ancora giovanissimo non hai nemmeno 18 anni cosa dicono mamma e papà e la tua famiglia allora sono vedo e penso siano molto molto fieri per quello che ho fatto fino ad ora chiaramente ci sono sempre quando devo andare quando sono vado in trasferta perché mio papà fa sempre i filmati dalle mie gare ecco e e quindi ecco ci sono da sempre ci sono stati ecco anche dalla mia prima gara che non sapevo neanche io bene cosa andassi incontro devo dire che mi sono sempre stati vicino chiaramente quello sì sicuramente grazie mille a Stefano Benzoni per esserti raccontato qui ad Antenna 2 Sport un grosso in bocca al lupo per quello che è la tua finale di stagione per quanto riguarda il cross ma chiaramente poi per il continuo il proseguo di quella che è l'attività proprio con l'atletica e con l'atletica Valle Brembana in bocca al lupo davvero complimenti noi ti aspettiamo qui anche il prossimo anno per raccontarci un po' quello che gli aggiornamenti ti vogliamo con la medaglia d'oro la medaglia d'oro che conta speriamo in bocca al lupo in bocca al lupo davvero voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità andiamo in Val Gandino a conoscere un nuovo giovane un giovane che pensate un po' ha portato a casa un argento a Miami per quanto riguarda il crossfit terza e l'ultima parte di Antenna 2 Sport e di questa puntata e di questa puntata davvero tutta young dedicata ai giovani ai nostri giovani atleti della nostra valle è il momento di andare in Val Gandino mi trasferisco all'Este perché è il momento di conoscere Enrico Zenoni lui è un atleta di crossfit buonasera Enrico buonasera a tutti giovanissimo perché anche lui ha 23 anni e pensate un po' l'ultimo risultato ottenuto insomma poco più di 10 giorni fa a Miami in Florida ha conquistato un bellissimo argento a una delle manifestazioni internazionali più importanti per quanto riguarda il crossfit iniziamo da qui racconta un po' ai nostri telespettatori come è andata e soprattutto di questa competizione di questo successo davvero importante allora ciao a tutti mi presento molto velocemente sono Enrico Zenoni ho 23 anni e mi sono qualificato per questa gara importante di crossfit si chiamano Wadapalusa è una competizione che si svolge a Miami in America e diciamo che c'è stata una prima fase di qualificazione online dove passavano solamente 60 atleti di cui 20 passavano nella categoria Elite mentre gli altri 40 passavano nella categoria RX e infatti io mi sono qualificato nella categoria RX perché ero uno o tre gli ultimi qualificati quindi diciamo che le aspettative erano basse però alla fine a quanto pare la gara è andata bene sono arrivato molto in forma dopo comunque l'ambiente americano probabilmente ha fatto il suo perché è molto stimolante sì è molto stimolante poi il pubblico sembrava proprio di essere come una partita di calcio solo che si faceva crossfit e non calcio quindi il tifo davvero incredibile non ci sono restrizioni in America no in America devo ammettere che non ci sono restrizioni di pubblico non ci sono particolari regole mascherine all'aperto cose così sembrava proprio di essere tornato a tre anni fa praticamente quindi sì incredibile è stato e nulla è stata comunque una gara gestita molto bene alcuni workout li ho vinti altri invece sono andato un po' peggio però comunque in overhaul sono arrivato secondo quindi super risultato sì i workout sono una serie di esercizi obbligatori insomma che dovete presentare a quella che è la giuria allora non c'è una giuria in realtà funziona che ogni workout ha una serie di movimenti che bisogna diciamo finire nel minor tempo possibile quindi tu hai un giudice tuo che ti valuta i movimenti se li esegui correttamente e se questi sono eseguiti correttamente quindi il giudice ti dà le ripetizioni valide quindi tu avanzi nel workout fino a quando non lo finisci prima degli altri oppure può essere che c'è un sollevamento pesante quindi devi sollevare più peso dagli altri oppure può essere nel nostro caso abbiamo fatto anche comunque corsa vogatore nuoto cioè comunque qualsiasi tipo di movimento sbarra anelli bilanciere manubri salti sulle box arrampicata sulla corda cose così quindi c'è davvero un po' di tutto qualsiasi cosa torniamo un po' indietro cosa ti ha fatto avvicinare al crossfit quando hai iniziato allora ho iniziato circa cinque anni fa anzi un po' di più di cinque anni fa in Valseriana crossfit a Cene che era il box che era aperto a quel tempo e la prima cosa che diciamo mi ha avvicinato al crossfit è stato un video su youtube che ho visto uno dei campioni Rich Froning che si allenava ho detto voglio provare questo tipo di allenamento dato che era particolare e nulla la prima lezione mi sono innamorato infatti ora quello che pratico non riesco più comunque a smettere perché diciamo che nonostante sia duro nonostante si faccia fatica tutti i giorni nonostante si arrivi sempre al limite mi piace quindi comunque arrivi a fine giornata che sei soddisfatto di ciò che hai fatto quindi dobbiamo dire a tutti i nostri telespettatori che sei uno dei migliori anche a livello italiano sì 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 sono penso in top 5 top 10 dipende poi dato che ci sono così tanti movimenti che bisogna saper fare dipende sempre anche dai workout che escono quindi se mettono una serie di movimenti che magari avvantaggia me per i miei diciamo i miei punti di forza allora è molto probabile che possa vincerli mentre invece se ci sono diciamo i punti di debolezza è probabile che arrivi un po' indietro quindi è bello proprio perché non si sa mai cosa possa uscire in cinque anni ti è cambiata la vita insomma sì ho conosciuto praticamente tutte le persone che conosco ora e che frequento le ho conosciute tramite crossfit e il lavoro che faccio lo faccio grazie al crossfit e anche proprio tutta la mia vita centrata su quello ormai è centrata su quello hai parlato di lavoro per te il crossfit è anche un lavoro sì infatti faccio l'allenatore ora come ora crossfit ad amanti o che si trova a Pozzo Dada e nulla un lavoro che oltre al fatto che mi alleno io riesco anche ad allenare altre persone quindi è importante vederle crescere e vedere che anche loro riescono a superare diciamo i propri limiti chiaramente poi gli atleti d'elite sono devono fare certe cose però anche per le persone normali vedere qualcuno che riesce a migliorarsi è sempre bello perché chiaramente anche per lui è un passo che ti aiuta magari a superare anche certi momenti della vita che in cui non sei proprio al cento per cento quindi magari andare in palestra anche per loro è un momento di svago e tu devi riuscire a farglielo godere al cento per cento quindi approfitto del tuo asset perché a Pozzo Dada è arrivato anche il segnale di Antenna 2 quindi ci seguiranno anche sul canale 84 e quindi anche tutti i tuoi corsisti della palestra ti potranno seguire anche in queste interviste chiaramente anche nelle repliche questo per ricordarvi anche che se non vedete bene Antenna 2 potete provare a risintonizzare il vostro televisore insomma anche se c'è qualche vicino che non riesce insomma basta risintonizzare troverete Antenna 2 proprio sul canale 84 andiamo avanti perché chiaramente poi ci sono le competizioni le competizioni che entrano nel via nel vivo proprio nella stagione primaverile quali sono i prossimi appuntamenti e soprattutto quali sono i prossimi obiettivi allora i prossimi obiettivi diciamo che sarebbe qualificarmi alle semifinali che sono diciamo le gare live del circuito crossfit mentre invece i primi due le prime due fasi sono online sono gli open che si svolgono praticamente loro ti danno dei workout tu li filmi e li esegui tramite il filmato poi li invii loro correggono diciamo il video vedono se tutti i movimenti rispettano gli standard e poi ti classifichi in base ai tempi in base ai pesi quindi prima parte open seconda parte poi quarterfinals che sono ancora dei workout online però sono tutti concentrati in un weekend quindi bisogna sia 8 giorni per poterli completare e infine poi si arriva alla fase live che è la più importante dove passano mi sembra 60 atleti in tutta Europa quindi sono proprio i migliori 60 d'Europa e diciamo che è l'obiettivo di quest'anno insomma entrare in questi 60 abbiamo parlato di questi workout live non ti pesa un po' registrare il materiale fornirlo oppure è un'agevolazione quella di prepararsi proprio nella propria palestra e quindi di sentirsi anche a proprio agio allora io infatti nelle fasi di qualificazione online non sono mai andato benissimo proprio per questo tipo di stress preparare l'attrezzatura far vedere tutte le cose come dovrebbero essere fatte mentre invece nella fase live sono molto più motivato anche per il fatto che ci sono gli spettatori per il fatto che c'è il tifo mentre invece online di solito sia da soli o comunque con poche persone e poi proprio lo stress del non sapere mai se hai rispettato tutti i movimenti fino a quando non correggono il video mentre invece in gara sei lì al momento vedi anche gli altri atleti sei molto più motivato infatti io in generale vado molto molto meglio quando faccio gare live ma era così anche nel pre-covid? eh sì sì questa fase qua perché praticamente prendono tutte le persone al mondo quindi si iscrivono addirittura forse erano arrivati a 400.000 persone che si iscrivevano quindi è difficilissimo fare delle fasi live dove ci sono tutte queste persone quindi le prime scremature le fanno online e poi i migliori passano alle fasi live in modo che quindi insomma non c'è una sorta di federazione che gestisce delle gare nazionali regionali e poi successivamente internazionali sta crescendo parallelamente a CrossFit perché CrossFit diciamo che è un marchio registrato quindi ha tutto un proprio circuito mentre invece c'è un altro circuito che si chiama Functional Fitness che invece come hai detto tu gestito un attimo più una federazione che punta ad arrivare poi ad entrare nelle Olimpiadi e comunque tutto quel tipo di circuito lì quindi potrete rientrare poi in questa federazione oppure rimarranno separati dipende sempre da quante persone iniziano a seguire lo sport da come vengono gestite tutti i vari workout e perché chiaramente le Olimpiadi richiedono un certo tipo di impostazione non puoi mettere quello che vuoi ma devi dargli degli standard da subito e quindi dipende proprio da come andrà quella tipologia cioè da come vanno le valutazioni del comitato quindi non si sa speriamo di sì chiaramente esatto potrebbe essere un piccolo sogno beh sì obiettivo tanto comunque 4-8 anni siamo ancora giovani beh insomma giovanissimo fino a che età si può rendere al 100% nel crossfit allora in realtà ci sono il crossfit non funziona a categoria di peso ma funziona a categoria di età quindi si potrebbe competere fino a 60 anni volendo perché c'è la categoria master quindi però chiaramente nella categoria individual quindi più sei giovane più diciamo hai possibilità di andare avanti fino almeno 25-30 anni diciamo che secondo me è il picco poi 30-35 comunque puoi competere poi dai 35 in su si passa a master quindi cambia 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 anche il proprio il proprio fisico esatto infortuni quantità di volume di allenamento che riesci a sopportare quindi sì ci racconti un po' la tua giornata tipo allora mi sveglio abbastanza tardi non sono uno tanto mattiniero con calma faccio colazione cerco di mangiare il più possibile segui una dieta immagino equilibrata sì cerco di mangiare il più possibile durante la giornata perché spendendo comunque così tante calorie in allenamento diciamo che sei fortunatissimo esatto per tutti i nostri telespettatori mangiamo il più possibile insomma ti puoi godere i piaceri della vita decisamente però chiaramente non mangio cose pesanti cerco di mangiare comunque cose che mi permettano poi di allenarmi abbastanza in fretta senza senza pesantirmi troppo infatti dopo leggo un pochettino comunque sistemo i vari lavoretti che ho da fare e inizio ad allenarmi circa mezzogiorno l'una faccio la prima sessione poi finita la prima sessione mangio ancora se devo andare ad allenare in palestra di solito vado pomeriggio sera e poi finito di allenare in palestra faccio la seconda sessione di allenamento e poi vado a casa quindi finita la nostra intervista torni in palestra ad allenarti no oggi ne avevo solo una perché ho appena finito una gara questo weekend tra l'altro vinta e quindi siamo un po' più scarichi questa settimana non mi alleno così tanto diciamo ti racconti dell'ultima gara che hai vinto allora l'ultima gara che ho vinto è stata a Modena era una gara a team quindi ero assieme a un altro ragazzo si chiama Augusto Gesso e questa gara a team si svolge praticamente come le gare individual solo che essendo in due gli esercizi sono da fare sincronizzati oppure dividerli metà a uno metà all'altro quindi dipende proprio anche lì dal workout che esce e abbiamo vinto tutti e cinque i workout quindi è stato proprio una super gara un trionfo sì un trionfo lo conoscevi già questo ragazzo? no l'ho conosciuto proprio mi ha chiesto di fare questa gara quindi abbiamo iniziato a provare un po' di workout assieme ci siamo trovati bene infatti la gara è stata la dimostrazione bellissimo bellissimo ma c'è anche questa magari amicizia virtuale insomma magari comunque gli altri ragazzi che pratano questo sport a questo livello insomma vi conoscete vi sentite magari anche attraverso i social e insieme poi partite partecipare a questo tipo di gare sì infatti spesso ci si conosce sui social magari uno ha vinto una gara gli chiedi oh ti piacerebbe fare questa gara con me di solito si accetta poi si prova qualche workout se ci si trova bene poi si fa la gara e di solito a me sono sempre andate bene quindi bellissimo la prossima gara invece prossima gara c'è un sì direttamente live live sulle finali del campionato italiano che di cui parlavo prima quindi di functional fitness e non di crossfit che sono che sono comunque la prossima gara live che possiamo dove ti possiamo vedere scendere direttamente in campo un'ultima cosa chiudiamo così la nostra trasmissione è uno sport che è in crescita ci sono davvero tantissimi iscritti abbiamo ospitato chiaramente anche gli amici del crossfit inclusione proprio qui ad antenna 2 sport proprio per raccontare anche questo movimento sempre più importante di uno sport di un'intensità concentrata in un lasso di tempo molto breve ma che davvero va a disperdere tantissime energie tantissime calorie piace davvero tanto perché ormai la gente ha poco tempo per dedicare al proprio corpo e al proprio fisico hai un consiglio da dare a tutti questi nuovi atleti nuove eleve che si stanno avvicinando al crossfit ok i nuovi atleti il consiglio che do è quello di andare con calma quindi partire sempre dalle basi e quando hai imparato le basi chiaramente progredire però non avere fretta è la parte essenziale perché essendo comunque uno sport con moltissimi movimenti sono moltissimi movimenti tecnici quindi bisogna davvero spendere tanto tempo sulle basi per avere una tecnica perfetta quindi tecnica perfetta vuol dire efficienza quindi meno fatica nel gesto e quindi più velocità nel compierlo poi c'è più lavoro in minor tempo diciamo riesci l'obiettivo è proprio arrivare a quello a dare davvero il 100% noi ti facciamo il grosso in bocca al lupo Enrico grazie per essere venuto qui ad Antena 2 Sport a raccontarti noi ti aspettiamo anche il prossimo anno dove faremo il punto e chiaramente ti aspettiamo con altri riconoscimenti importanti a livello internazionale in bocca al lupo davvero e continua così invece per voi l'appuntamento è al prossimo martedì sempre a 21.30 canale 84 e vi ricordo che potete rivedere anche questa intervista così come tutte le altre interviste di Antena 2 Sport sul nostro canale YouTube proprio dedicato alla nostra trasmissione io ringrazio il nostro Felix in regia e vi auguro una buona serata ciao grazie a tutti grazie a tutti